Una tavola rotonda dal titolo Corruzione Economica e Democrazia Pluralista a presiedere rappresentanti dell'Ateneo di San Paolo, Brasile, di Buenos Aires, Argentina e di Napoli e due uomini di diritto, da un lato Giovanni Legnini, vicepresidente del CSM e dall'altra Raffaele Cantone dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Tutto ruota intorno al concetto di equilibrio Stato ed economia. Quando lo Stato debba avere in carico di intervenire con indirizzi di politica economica e quando invece, viste le mutate condizioni, la crisi abbia imposto di cambiare i paradigmi sociali. È proprio Giovanni Legnini a sottolineare come oggi i vincoli europei si frappongano all'obbligo dei nostri paesi di soddisfare i diritti dei cittadini con regole ferree. Per un verso ho l'obbligo di soddisfare alcuni diritti, io Stato. Per un altro verso avrei intenzione di soddisfare i diritti, per un altro verso ancora ho necessità di superare l'avverso ciclo economico, per un altro verso mi devo attenere, ho l'obbligo di attenermi al vincolo. Questo è il cuore del problema che il nostro paese, a mio modo di vedere, ha affrontato in questi anni e continua, per una parte, importante ancora ad affrontare. Il dualismo tra economia e diritto è il perno dell'intervento di Raffaele Cantone, che apre il suo discorso con una domanda. Quali sono le conseguenze dell'illegalità sul sistema economico? Perché spiega solo quando si avrà chiaro l'immobilismo che crea la corruzione, si potrà capire l'importanza della libera concorrenza. La corruzione è un sistema che blocca l'economia, poiché impedisce l'ingresso di nuovi attori. Mica la corruzione è un sistema unilaterale, c'è una pubblica amministrazione cattiva, corrotta, che impone le tangenti e povere persone che pagano le tangenti. Questa è una visione assolutamente sbagliata. La corruzione è un classico reato-contratto, ovviamente lo dico agli studenti, è un reato plurisoggettivo che ha la struttura tipica di un contratto, dove c'è un idembelle, c'è un rapporto per il quale due persone vogliono la stessa cosa.